E che cosa è successo? Si lavava del volcane, ha fatto questo di rocce, insomma questo non lo potessi. Quando io ero bimba, 10, 9, 10 anni, come state adesso, dicevano i zambati, i zambati, ma non dicevano niente la storia. Sono tenuta sempre la nomina, le zambati del diavolo, sempre, oltre a 200 anni fa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.